53 anni, ex modella e mamma di due figli, la più piccola Giulia, 9 anni, è avuta dall'ex presidente Sarkozy. Per questo lavoro, la Bruni non ha voluto nessun piccolo effetto speciale. Nel video del singolo che il teshoso appare con un look voignel, jeans rasati e t-shirt e uno sguardo magnetico. Lo stesso che negli anni 90 ha affascinato le passerelle di tutto il mondo. Cosa non usi? Che profumo c'è? Che profumo c'è? Nanna? Andiamo a nanna a che ora? Cosa dici? No? Ancora saluta a Roby? Non farlo minori né? No, Oliver! Oliver! Ho voglia di farti dei cochi stasera.